Una seduta straordinaria e urgente per il Consiglio Comunale di Pozzuoli, domattina, martedì 14 aprile, presso la Sala Giunta del Municipio in Via Tito Livio. All'ordine del giorno la presa d'atto del provvedimento prefettizio di sospensione di diritto alla carica di consigliere comunale di Ciro del Giudice. Del Giudice, ex militare della Guardia di Finanza, oggi ristoratore, è accusato di aver intascato denaro da aspiranti fiamme gialle in cambio della sicurezza di passare il concorso d'allievo maresciallo. Coinvolto nell'inchiesta anche un altro sottofficiale, Bruno Corosu, maresciallo capo delle fiamme gialle. Le indagini sono state svolte dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con il coordinamento del procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli e dal sostituto Harry John Woodcock, a seguito del servizio mandato in onda dalle Iene nel quale si vede del Giudice alle prese con un finto aspirante finanziere, al quale viene prospettato un vero e proprio tariffario, 25.000 euro per diventare finanziere semplice, 50 per superare il concorso da maresciallo. Del Giudice, consigliere comunale del PD al tempo dei fatti, che risalgono a quasi un anno fa, è agli arresti domiciliari dallo scorso 24 marzo ed è stato sospeso lo scorso 4 aprile dal prefetto di Napoli Gerarda Pantalone, che ha agito in base alla legge Severino. La legge prevede infatti la sospensione dalla carica pubblica che si ricopre se sia oggetto di una misura cautelare. Ad oggi Ciro del Giudice risulta indagato con l'accusa di millantato credito. Soltanto in caso di rinvio a giudizio sarà tra gli imputati del processo. Intanto Del Giudice, che all'indomani dei fatti si era autosospeso dall'assise cittadina ma mai dimesso, come anche aveva chiesto il sindaco Figliolia, dovrà essere sostituito. Domani il Consiglio Comunale nominerà il sostituto. Si tratta di Mauro Parrella, primo dei non eletti del PD, la sospensione di Del Giudice avrà efficacia per 18 mesi, trascorsi i quali decadrà, come anche in caso di proscioglimento o assoluzione.